Il Dipartimento regionale agricoltura guidato dal direttore Dario Cartabellotta in collaborazione con l'Università degli Studi di Catania ha condotto un'articolata analisi, un'indagine di revisione delle categorie di lavori ed un adeguamento dei prezzi al contesto attuale. Pertanto con la pubblicazione del nuovo preziario si dà possibilità agli imprenditori agricoli, agli operatori del settore agroalimentare e forestale di realizzare interventi di miglioramento aziendale rendendo le imprese più efficienti e competitive nel rispetto dell'igiene della produzione, del benessere degli animali e del regime di sicurezza per i lavoratori. Due atti fondamentali nel processo di modernizzazione e sburocratizzazione dell'agricoltura siciliana dice l'assessore regionale all'agricoltura Luca San Martino. Una spinta allo sviluppo delle imprese viene semplificato l'iter per accedere ai fondi consentendo alle aziende di programmare i propri investimenti senza dover attendere inutili lungaggini burocratiche. In particolare le variazioni sono riferite ai costi dei materiali e della mano d'opera per la realizzazione di interventi nelle aziende agricole e in quelle silvopastorali. Per gli impianti arborei sono stati introdotti i costi semplificati per l'ampiamento delle culture che saranno finanziati con le misure relative ai investimenti nelle aziende agricole.